eccoci buonasera a tutti ciao ben ritrovati sul canale di aviditalia io sono giuseppe palmi sono il solution specialist a aviditalia e questa sera con noi ho il piacere di presentare valerio valerio fogliaro ciao giuseppe buonasera a tutti allora valerio ovviamente oltre a essere un dipendente di aviditalia fra le sue anni e anni di esperienza sia in produzione che in post produzione da parecchi anni vabbè è istruttore sia dalla parte post produzione ma specialmente di media composer e quindi questa sera ci spiegherà quali sono le novità di media composer 2020 quindi sarà una sorta di giro di boa visto che siamo a metà anno di quello che avid ha fatto durante questi primi sei sette mesi dell'anno e scopriremo insieme quali sono diciamo le peculiarità di questa di questa versione allora partiamo con qualche qualche dato no allora media composer 2019 cosa ha introdotto ha introdotto la nuova interfaccia a pannelli c'è stato un forte un forte cambio di rotta rispetto rispetto al passato quindi abbiamo questi pannelli che si possono diciamo sistemare all'interno dell'interfaccia in maniera in maniera più 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 organica più fluida infatti è stata decisa la l'organizzazione magnetica per dire no abbiamo le workspace quindi sulla parte destra abbiamo delle workspace che possono essere all'occorrenza anche modificate e scelte a livello custom e posso modificarle e richiamarle a mio apprecimento abbiamo un nuovo concetto di organizzazione dei bin che si chiama bin container è stato introdotto l'inspector tool il supporto nativo ai file o p1a una cosa che da molti era era attesa negli anni è stata migliorata la timeline quindi abbiamo più funzionalità sulla timeline e sulla title plus quindi la nuova titolatrice e ultimo ma non ultimo ovviamente il supporto ai nuovi formati openaxr questo webinar verrà diciamo spezzato spezzettato in due in due parti nella prima parte vedremo le novità grafiche che questa nuova versione di media composer la 2020 mette a disposizione degli utenti la seconda parte invece nella seconda parte parleremo delle novità a livello funzionale quindi quali funzionalità in più sono state aggiunte su media composer 2020 quindi partiamo subito con le novità grafiche diciamo che la prima cosa da dire è che la finestra di selezione del progetto è diventata è cambiata è cambiata parecchio infatti adesso poi valerio ci farà vedere che include molte più informazioni ed è molto più molto più customizzabile quindi posso andare a fare delle impostazioni più profonde anche già in pre selezione del progetto la finestra dei setting che prima nella versione 2019 quindi la prima versione nuova era sganciata dall'interfaccia adesso può essere invece agganciata all'interno dell'interfaccia l'inspector tool che dà molte più informazioni rispetto al passato anche a gruppi ad esempio la selezione delle clip all'interno dei bin è stata semplificata quando siamo in modalità frame e poi delle funzionalità molto molto simpatiche a livello sempre grafico che è il bulk edit, il blank panel e la selezione delle muted clip ultima ma non ultima anche qui la nuova funzionalità che qualcuno aveva già provato in anteprima che è la timeline map che ci permette di spostarci molto più rapidamente all'interno di timeline molto grosse e molto complesse adesso io non vi dedio più passo la parola a Valerio che ci farà vedere nello specifico di che cosa stiamo parlando vai Vale sì grazie Giuseppe allora questa è la nuova interfaccia di Media Composer cioè a differenza di come eravamo abituati negli ultimi decenni da Media Composer le nuove versioni già dall'interfaccia del Select Projects quindi la prima finestra che ci si presenta appena apriamo Media Composer possiamo notare da subito che è completamente diversa rispetto a quella che era nel passato in primis sulla parte in alto a sinistra abbiamo una nuova voce rispetto a quello che era nel passato che è il What's New il What's New cos'è? Non è altro che la possibilità di andare a visionare tutte le novità delle ultime versioni partendo dalla 2019.6 quindi dalla versione in cui Avid ha deciso di modificare completamente l'interfaccia di Media Composer come faccio a navigarci all'interno? Mi basta selezionare la versione che a me interessa scorro all'interno delle pagine che mi presenta il What's New e cliccando sulle informazioni automaticamente mi riporta in un menu dove come potete vedere c'ho tendenzialmente tutta la guida di Avid Media Composer comprese tutte le novità tornando invece a quello che è la parte più importante relativa a questa finestra cioè la selezione dei progetti. Come si può notare spariscono le classiche voci di progetti condivisi progetti locali sulla macchina external proprio perché attraverso questo pulsante io vado a selezionare i progetti in external oppure semplicemente cliccando qua io vado a decidere quale dei due progetti andare ad aprire altra modifica sostanziale all'interno del Select Projects come potete vedere è questa finestra qua dove io ritrovo il nome hanno aggiunto la possibilità di visualizzare il frame cioè io dall'interno di Media Composer posso andare ad associare uno stamp rappresentativo del mio progetto e quindi individuare subito al di là del nome che io ho assegnato al progetto il progetto stesso posso andare ad utilizzare quella che poi vedremo all'interno di Media Composer non era altro che la funzionalità frame proprio perché è stata introdotta anche all'interno del Select Projects la modalità frame quindi posso visualizzare i miei progetti sotto forma di frame oppure sotto forma di testo e posso anche utilizzare questa finestra quindi posso allargare la finestra per il semplice motivo che è stata aggiunta la possibilità di aggiungere all'interno della finestra del Select Projects la possibilità di aggiungere delle colonne quindi avere maggiore informazioni rispetto a quelle che erano le informazioni riportate dalle vecchie versioni posso, così come faccio all'interno del BIN posso riorganizzare le mie colonne e quindi posso avere una gestione completamente diversa rispetto a quello che era nelle vecchie versioni della selezione del progetto in alto hanno aggiunto il New Projects che modifiche sono state apportate all'interno del New Projects all'interno della finestra del New Projects come vedete ci stanno i classici settaggi quindi vado a selezionare il raster del mio progetto assegno come al solito il mio nome di progetto e direttamente da questa finestra c'ho il Create per tornare invece nella finestra di selezione dei progetti che già ho salvato mi basta tornare su Projects a quel punto, come al solito seleziono il mio progetto e vado ad aprire il progetto sul quale devo andare a lavorare la prima cosa che vediamo tornando a quello che diceva Giuseppe per l'appunto è un'interfaccia completamente nuova è riorganizzata per quale motivo? perché non esiste più così come era nelle vecchie versioni il bin che vive come finestra propria oppure una qualsiasi finestra che era una finestra a sé stante il termine che ha utilizzato Giuseppe se non ricordo male Giuseppe Illuminaci era calamita per quale motivo? perché io i miei bin adesso li posso andare proprio perché sono flottanti li posso andare ad agganciare ad una qualsiasi finestra e decidere il mio ordine all'interno della finestra di progetto questo fa sì che io possa andare a raggruppare così come facevo nelle vecchie versioni ricordo il Super Bin che era una finestra che andava a raggruppare tutti i bin con lo stesso principio ma con un look completamente nuovo e diverso una delle novità a cui accennava Giuseppe per esempio era quella dei settings che nelle prime versioni Avid aveva lasciato come finestra flottante cioè abituati ad avere sempre i setting a portata di mano ogni operatore di Media Composer era abituato ad avere quella finestra perché era la finestra più importante ci siamo ritrovati di punto in bianco ad avere questa finestra che per richiamarla eravamo costretti ad andare in un menu perché per l'appunto non era più una finestra in questa nuova versione io la finestra dei setting posso andare ad agganciarla alla mia interfaccia e posso andare a salvare la mia interfaccia proprio come diceva Giuseppe perché se ci fate caso a destra io ho le mie workspace già da un annetto quasi due Avid aveva introdotto la modalità workspace cioè io andavo o meglio avevo la possibilità di creare delle nuove workspace oltre a quelle che Avid già mi presenta nel creare una nuova workspace io troverò la mia workspace direttamente con accesso diretto dalla barra appunto della workspace per esempio io qua ho fatto una workspace con il map della timeline a cui faceva riferimento Giuseppe che vedremo tra poco ho fatto una workspace per avere a portata di mano quindi un accesso diretto a quelli che sono i setting oppure per esempio una workspace dedicata ai titoli dove io ho il monitor singolo perché in ogni caso mi interessa gestire solo i titoli nel momento in cui vado ad aprire la titolatrice ho i miei bin sistemati con la mia interfaccia che non cambia e riesco a gestirla in modo completamente veloce l'inspector tool a cui faceva riferimento Giuseppe l'inspector tool era una finestra flottante che in ogni caso ci portava poche informazioni anche in questa nuova versione io ho la possibilità di avere l'inspector tool separato rispetto alla mia interfaccia oppure posso andare a calamitarlo ed avere sempre le informazioni relative alla clip sulla quale io mi vado a posizionare direttamente sulla mia interfaccia ovviamente anche in questo caso potrei andare a creare una mia workspace di riferimento per avere accesso diretto all'inspector senza doverlo tenere sempre in visione altre novità che riguardano per esempio il bin così come accennavo prima io ho la possibilità di legarli tra di loro quindi avere un solo container cioè bin 2 dove all'interno io ho la possibilità di spostarmi da un bin a un altro posso decidere di aggiungere altri bin di agganciare altri bin una novità interessante che hanno aggiunto nelle nuove versioni per l'appunto è quella di poter assegnare un background a tutto il bin oppure come nelle ultime release di Media Composer andare nei setting interface bins e dire a Media Composer di utilizzare il colore solo ed esclusivamente sul tab quindi invece di andare a darmi i colori su tutto il fondo del bin va a colorarmi se ci fate caso solo ed esclusivamente il tab del nome del bin questa cosa mi serve? mi serve per una suddivisione un accesso diretto a quello che può essere il mio materiale sempre all'interno dei bin questa era già presente nella versione 2019 io posso andare ad abilitare il map della la mappa per navigare al meglio il bin questa funzione è stata introdotta per l'appunto anche sulla sulla timeline cioè il sequence map che può essere o una finestra flottante dove io posso muovermi come diceva Giuseppe in presenza di timeline molto lunghe e molto complesse nel momento in cui io vado a utilizzare la scala quindi vado a zoomare per avere una gestione migliore di quello che può essere il mio audio la mia waveform la costruzione fisica delle varie componenti video io adesso ho la possibilità di spostarmi in modo veloce all'interno della timeline come dicevo prima questa finestra può essere o una finestra flottante vado a posizionarla libera dove mi pare oppure posso andare tranquillamente ad agganciarla e avere l'accesso diretto alla mia timeline e alla porzione di timeline che a me serve un'altra funzione interessante che è stata inserita all'interno della 2026 è quella di poter gestire contemporaneamente più clip mute se vi ricordate nelle ultime versioni di Media Composer io ho la possibilità di dire alla sequenza questa clip metti la muta muta sul video vuol dire nero ok a cosa mi può servire mi può servire perché se devo andare a fare una costruzione come dire multilayer multilayer in determinati casi io ho la necessità di vedere una o più clip più clip se vi ricordate c'era la funzione solo sul video la funzione solo però andava ad inibire tutto ciò che c'era sopra la clip di interesse o sotto la clip di interesse la funzione muto invece mi dà la possibilità di spegnere solo quella clip o più clip contemporaneamente la nuova funzione che è stata introdotta in questa versione è quella di avere la possibilità di togliere il muto su tutte le clip contemporaneamente cioè nelle versioni precedenti se io ci avessi avuto quattro clip video in muto dovevo necessariamente selezionare la clip e dargli la mute direttamente su quella clip in questa nuova versione io posso selezionare una clip muta andare sul menu select e direttamente dal menu select ok o le vado a mutare o direttamente da qua gli vado a dare a mute a tutte le clip contemporaneamente un'altra funzione interessante introdotta nella 2026 è questa funzione qua aggiungi un pannello blank per chi ha già utilizzato la nuova versione di media composer sa benissimo che nel momento in cui si va a chiudere un bin o una qualsiasi finestra agganciata all'interfaccia automaticamente l'interfaccia si va a riorganizzare con lo spazio che trova questa funzione invece serve per l'appunto a dire a media composer se io adesso vado a chiudere questa finestra che la finestra iMaps rimani tutto fermo per quale motivo perché ho abilitato il blank container di conseguenza io vado a stabilire la posizione delle mie finestre e in funzione delle finestre che io vado ad aprire e chiudere l'interfaccia non cambia un'altra delle funzioni che è stata introdotta all'interno della nuova versione per esempio è sugli effetti nel senso la finestra degli effetti nella finestra degli effetti per esempio posso finalmente andare a modificare i font quindi posso andare ad ingrandire un font il font di tutti gli effetti poi vedremo il il title title plus altra novità interessantissima che tutti aspettavamo che è quella del blank edit mi spiego per esempio vado a linkare nclip ok nelle versioni precedenti a questo punto io ero costretto ad andare a rinominare le clip uno per uno oppure ne nominavo una copia incolla e aggiungevo un numero nella nuova versione io seleziono le clip che mi interessano tasto destro bulk edit mi viene fuori questa nuova finestra interessantissima dalla quale io decido cosa andare a modificare il nome i commenti in che modo change gli dico utilizza solo la mia selezione al momento potrei farlo con tutte le sequenze con tutte le sub clip o con i master clip indistintamente dal bin o dalla posizione in cui si trovano io personalmente preferisco il selection per avere il controllo delle clip sulle quali andrò ad agire sotto la parte sotto a cosa mi serve mi serve per specificare cosa voglio andare a modificare il testo per esempio demo a destra se ci fate caso ho la finestra che mi dice il nome e mi porta quello che io sto modificando posso aggiungere ulteriori campi per esempio demo counter perché voglio numerarli ok bene così facendo il commit guardate che succede all'interno del bin tutte le mie clip sono state rinominate da demo 001 a demo 020 semplicemente con un click era una funzione che aspettavamo da tanto tempo ma proprio da tanto Giuseppe soprattutto per chi opera con una quantità enorme di materiale avere la possibilità di rinominare e numerare contemporaneamente n clip con un solo click devo dire che facilita la vita decisamente a tanti operatori si si poi un'altra cosa se posso aggiungere che potevi fare anche l'append anziché modificare proprio il nome della clip potevi fare l'append quindi il nome originale e appendevi qualcosa tipo underscore 1 underscore 2 eccetera si si Giuseppe per quanto riguarda la parte di di grafica così come così come la chiamavi tu per quanto mi riguarda queste sono le funzioni principali nella seconda parte vedremo le funzionalità vere e proprie e ne approfitterò per far vedere giusto qualche altra cosetta anche di grafica in modo operativo grazie riprendo la parola molto brevemente poi te la giuro che te la ridò nel più breve tempo possibile quindi abbiamo visto un pochettino quali sono le novità a livello grafico qualcosina anche a livello funzionale poi perché ovviamente non solo non solo la grafica ma anche a livello funzionale poi qualcosina è cambiata però abbiamo deciso di modificarla così giusto per avere un contesto più standard per quanto riguarda invece le funzionalità che sono state aggiunte in questa versione c'è la title plus che Valerio aveva accenato qualcosina promettendovi che avrebbe approfondito nella seconda parte infatti la title plus è stata completamente ridisegnata sono state aggiunte un sacco di funzionalità una cosa molto interessante è la possibilità di vedere in modalità frame i titoli creati con la title plus quindi anche qui si strizza l'occhio un po' anche chi deve fare i titoli perché giustamente è anche questa una operazione bella e importante e poi c'è una grossissima modifica all'interno del motore di media composer che anche se non si vede è stata parecchio oggetto di sviluppo che è l'UME che cos'è l'UME l'Universal Media Engine che è il nuovo motore di codifica e decodifica dei media non solo dal punto di vista dell'import e dell'export ma come vedremo anche dal punto di vista del link però approfondirò fra pochissimo oltretutto questo UME ci permette di lavorare con il materiale a frame rate variabile quindi per esempio materiale che è stato registrato da smartphone o da alcune apparecchiature magari non troppo o dai famosi droni Giuseppe scusate che ti interrompo dai famosi droni esatto che tanto ci hanno dettato perché si deve passare fra mille software per poterli standardizzare poi i nuovi preset del frame flex come penso avrete avuto modo di vedere all'interno del panorama audio video si stanno evolvendo si stanno evolvendo nello specifico i formati quindi raster sides e il frame flex ci aiuta anche per questo tipo di lavori specialmente per esempio per Instagram o Quibi i nuovi formati gli stessi effetti del frame flex adesso possono essere applicati su tutta la sequenza in un colpo solo quindi senza dover andare a modificare diciamo master clip per master clip gli slider della color correction sono ancora più precisi Valerio vi farà vedere come però finalmente ho la possibilità di andare proprio a livello molto granulare quindi un punto per un punto in maniera in maniera semplice sullo slider e poi la funzionalità dello strip silence che è molto molto interessante perché per chi deve fare delle elaborazioni audio su media composer quindi non può magari passare su produrso deve fare una modifica al volo direttamente su media composer può in un colpo solo andare a cancellare o comunque a trimmare le parti audio che non sono che sono sotto una determinata soglia che imposta l'utente a livello a livello di volume per quanto riguarda l'ume quindi come vi dicevo è un nuovo motore il nuovo motore che sta dentro media composer quindi gli utenti lo vedono poco ecco se non in qualche in qualche schermata che vedremo fra poco possiamo dire che rimpiazza gran parte delle librerie che utilizza quick time nello specifico l'idea è quella di rimpiazzare totalmente quick time e di utilizzare proprio un nostro motore un nostro motore per quanto riguarda il link e l'import di determinati tipologie di file ad esempio il progress su windows ovviamente ci da una mano per tutti i tipi di workflow file based che stanno diventando il 99% anche se ancora qualcosina sul tape c'è nello specifico abbiamo valutato nei laboratori che l'export ad esempio dei mov è tre volte più veloce il transcode quindi l'import anche per esempio del dnx qualcosa quindi dnx hd hr e così via è il 25% più veloce e il trim e lo scrub sui media linkati è molto più rapido quindi potrei anche potrei anche lavorare portarmi a casa una lavorazione al 100% in linkama ecco io non lo farei ti senti però da operatore dico io non lo farei queste sono sempre le solite diatribe fra chi fa progettazione e chi poi alla fine mette le mani sul software però mi fido mi fido di Valerio e poi ovviamente il supporto a più formati e codec che è quello che poi agli utenti interessa nello specifico i mov gli mp4 asimmetrici quindi con audio e video di lunghezza differenti o frame rate variabile l'image sequencer quindi tutti quanti i formati di image sequencer ad esempio l'open.xr che è molto molto interessante si sta diffondendo in maniera abbastanza prorompente sul mercato i formati 4k superiore all'interno degli h.264 e finalmente l'op1a l'op1a nativo quindi non solo di workflow di tipo op.atom ma adesso possiamo anche lavorare i file op1a gestendoli come se fossero dei file nativi di media composer per intenderci i file che vengono messi all'interno della cartella di media file sotto gli hard disk qual è la roadmap dell'universal media engine ovviamente è un punto di partenza diciamo che è una release se non 1.0 ma 1.5 quindi ovviamente già bella diciamo bella forte bella potente però ovviamente ha una una release una roadmap scusate nello specifico ovviamente si vuole andare ovviamente a rinforzare il workflow di tipo ACS per intenderci si potranno anche esportare le cdl che sono le color decision list si potranno fare le trasformazioni automatiche ecco questo è un workflow di tipo molto molto di nicchia comunque molto cinematografico potrò anche fare effettuare il link dei file h.265 in maniera nativa potrò esportare gli MEP4 dall'UME sfruttando l'UME bypassando la parte di QuickTime di librerie QuickTime finalmente potrò esportare direttamente da Media Composer con dei raster sides diversi quindi non più solo il 16.9 il 4.3 comunque formati conosciuti l'1.1 eccetera ma anche formati più strani ad esempio quelli nuovi di Instagram per esempio di Quibi e potrò lavorare anche con il nuovissimo formato della Dolby che è il Dolby Vision quindi non tergiverso oltre passo la parola a Valerio che ci farà vedere insomma parte di quello che abbiamo discusso in queste slide vai Vale grazie Giuseppe sì vorrei iniziare per l'appunto da l'Universal Media Engine per quale motivo parto proprio da quello perché una delle cose delle novità della nuova versione per l'appunto se ci fai caso Giuseppe è scomparso il link ama non c'è più il link ama o il semplice link come era così nelle ultime versioni è sparito completamente proprio perché adesso vado a lavorare dato che hanno migliorato il source browser come potete vedere in automatico lui si va a linkare direttamente con l'Ume mi porta il così come nelle versioni precedenti mi dà la possibilità semplicemente facendo tasto destro di modificare quello che il mio plugin ama qualora volessi modificarlo per un qualsiasi motivo ma in automatico lui si va a linkare direttamente con l'Ume a quel punto mi vado a prendere il mio materiale è decisamente più veloce rispetto alla vecchia modalità di link ama per l'appunto quello che diceva Giuseppe e mi ritrovo tutto il mio materiale all'interno del del mio bin con la classica visione del materiale linkato in ama questo per quanto riguarda il link ripeto è scomparsa la voce link ricordo quando siamo passati da ama link a link oddio hanno tolto l'ama file hanno tolto l'ama file no nella nuova versione non esiste più il link proprio perché siamo legati a quello che è il source browser e in automatico si va a linkare con il codec migliore che se ci avete fatto caso quasi tutti i file presenti all'interno della mia cartella automaticamente sono stati agganciati dal plugin Ume titoli il title plus come diceva Giuseppe è stato modificato è stato decisamente migliorato per quale motivo vi apro subito l'interfaccia proviamo a creare un titolo come vedete quello che dicevo prima io mi sono creato la mia workspace titoli proprio per avere una gestione migliore di quello che è il titolo dalla mia finestra di gestione doppio click mi vado a scegliere il colore tasto testo e scrivo demo mc una funzione interessante che hanno introdotto finalmente è la possibilità di vedere in tempo reale la modifica del font cosa che prima non era possibile a questo punto posso andare a gestire il size direttamente da qua ma hanno introdotto una una funzione interessante non so se ho zoomato troppo forse che è questo quadratino all'interno della finestra di gestione del titolo quel quadratino cosa mi serve mi serve per andare ad abilitare il gradiente all'interno per esempio del mio titolo decido dove farlo partire in alto a sinistra in basso a sinistra e così via in alto a destra e in basso a destra e questo vale sia per quanto riguarda la parte titolo sia per quello che riguarda per esempio il mio fondino dove io vado a decidere che non è più un verde su nero ma diventa una fucsia su su viola e come vedete lo vado a gestire direttamente da da qui novità sostanziale se ci fate caso io ho creato un bin template per quale motivo perché qualora io avessi la necessità di andare a modificare il il font per esempio del titolo che ho all'interno della mia timeline non mi devo ricordare che font avevo utilizzato mi vado a prendere il mio template drag and drop lo trascino all'interno dell'Effect Editor e lui in automatico mi lascia ciò che io avevo scritto però si porta dietro le proprietà non so se qualcuno si ricorda questa questa modalità può essere utilizzata anche negli effetti nel senso faccio un effetto di colorometria devo creare un effetto seppiato invece di andare a scrivermi quelli che sono i parametri per esempio la scala rgb io mi creo il mio template inserisco l'effetto sulla mia clip e se io ho la necessità di modificare e assegnare lo stesso parametro del mio template per esempio solo e esclusivamente al rosso basta che trascino l'effetto quindi il mio template all'interno dell'Effect Editor sulla voce del red e in automatico lui si prende il il parametro assegnato al al template stessa cosa ho un titolo che è già presente all'interno della mia timeline apro il title plus mi vado a prendere anestesia 1 lo trascino all'interno dell'Effect Editor e come vedete si porta dietro il colore e il font del template cosa diversa se io trascinassi il titolo all'interno della mia timeline ovviamente trascinandolo va a sostituire il titolo presente in in timeline un'altra novità sempre in funzione del title plus è che adesso i titoli fatti solo ed esclusivamente col title plus io ho la possibilità di visualizzare l'interno del bin sotto forma i frame quindi invece di visualizzare solo ed esclusivamente il il nome del l'icona 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 per l'appunto ho la possibilità di visualizzare fisicamente e visivamente scusate quello che c'è all'interno del mio titolo mi aggancio solo mi aggancio alla funzione frame per farvi vedere quello che vi dicevo all'inizio sul select projects perché se ci avete fatto caso nel select projects scusate ritorno indietro così ne approfitto per farvi vedere questa cosa vi ho detto che c'è la possibilità di visualizzare anche il frame rappresentativo di quello che è il mio progetto come faccio a farlo entro nel mio progetto seleziono il frame che a me interessa ok tasto tasto destro ecco qua salva come frame post del progetto di conseguenza in questo caso siccome è già presente io gli sto dicendo fammi lo stamp di questo fotogramma lui mi dice guarda che già lo avevi fatto c'era la signorina la signorina seduta dico di sovrascriverlo mi ha modificato lo stamp del del progetto ritorniamo all'interno del progetto nuovi preset del frame flex come accennava Giuseppe ormai si vive con i device si vive con instagram si vive con facebook di conseguenza l'esigenza di poter creare e lavorare del materiale audio video in funzione della pubblicazione su instagram su facebook infatti all'interno del per l'appunto del frame flex sono stati introdotti un attimino che lo prendiamo subito ok devo trovare del materiale source setting frame flex ecco le nuove funzionalità per esempio la possibilità di lavorare con il verticale per l'appunto torno a quello che dicevo prima lavoro con per instagram oppure un'altra modalità per gestire il formato in verticale tasto destro all'interno della mia finestra target mask e decido come voglio visualizzare la maschera posso visualizzarla completamente black quindi mi va a tagliare completamente il fotogramma giuseppe sicuramente si starà chiedendo ok giuseppe accennava al fatto che è stato modificato anche l'export per l'appunto è stato modificato anche l'export infatti nei vari modifiche fatte all'interno dell'export per l'appunto giuseppe accennava la possibilità di fare oltre al vecchio quick time movie la possibilità di fare un move il move cosa si porta dietro principalmente ci siamo sganciati da apple quindi da quick time nei versioni nei vecchie versioni se io avevo la necessità di esportare un qualcosa in apple progress dovevo andare fisicamente su una macchina apple su macchina windows era impossibile tirare fuori un apple progress come le nuove versioni e per l'appunto con lume quindi con l'universal media engine dove avid sta cercando per l'appunto come diceva giuseppe di sganciarsi completamente da quello che era quick time che se ricordate nelle versioni precedenti era essenziale addirittura media composer all'avvio non trovando installato quick time vi dava un messaggio d'errore con questa nuove versioni e per l'appunto con l'universal media engine ci sganciamo completamente la quick time e abbiamo la possibilità finalmente di fare un apple progress con tutti i codec che dispone l'apple progress però una cosa interessante è questa qua io ho fatto vedere che direttamente sulla timeline posso andare ad applicare una maschera però torno alla domanda che si stava facendo Giuseppe dice sì bellissimo hai applicato la maschera sul monitor quindi sulla timeline che ci fai in fase di export io posso dire dalla finestra di export enable mask in automatico l'export mi tirerà fuori il frame tagliato ti torna Giuseppe vedo vedo una faccia sì 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 quindi questo per quanto riguarda i nuovi formati e per l'appunto tornando alla slide faceva vedere Giuseppe dove sta andando Avid con lume file export ok un'altra funzione interessante che è stata introdotta con la 26 era quella dell'audio cioè io qua ho il mio strip silence bravissimo Giuseppe vedo che segui dicevo mando in play ho un attimo di silenzio all'interno della mia traccia audio voglio eliminarla dovrei iniziare in out elimina in out elimina assolutamente no faccio un bel testo destro all'interno della mia timeline strip silence prosequence giustamente se non seleziono l'audio non me lo farà fare mai e a questo punto lui mi sta dicendo su quale tracce sto agendo da che punto voglio partire a togliere l'audio cioè quello che per me è silenzio e quello che è parlato quindi gli vado a dare un'unità di misura in db gli devo dire quanto deve durare minimo quel silenzio e soprattutto quanti frame mi deve lasciare dal taglio che lui fa prima e dopo il taglio giusto per non avere uno stacco netto provo a mettere meno 15db do l'ok lui ha processato la sequenza come vedete in automatico lui mi ha tolto tutti quelli che erano silenzi intesi però con il parametro che io ho assegnato alla funzione vedete ha tolto solo questo pezzettino rispetto a prima che aveva tolto metà sequenza era giusto per renderlo più visibile vado con un meno 30 ed ecco che lui mi ha pulito la maggior parte delle dei silenzi che stavano all'interno di quei db e semplicemente con un click sono riuscito a pulire se mi sente qualche tecnico audio mi uccide Giuseppe a pulire la mia timeline ci ammazza i tecnici ci ammazzano a tutti credo noi facciamo il b assolutamente sì vado a farvi vedere semplicemente quello che diceva Giuseppe al volo perché mi sa che stiamo sui limiti che era il fatto che è stato migliorato scusate è stata migliorata la gestione della degli slider della color correction per quale motivo perché io utilizzando il tasto shift vado a leggermente più come dire più preciso cosa che prima cosa che prima facevo tra virgolette a mano libera non ero legato a una sorta di snap sul sul cursore perché si muoveva da di un'unità per volta sì sì col control lo rallenti così sto solo con il mouse il control lo rallenta con shift velocizzo perché vedi mi basta spostare una sorta di jog che lui parte in funzione della metà della posizione del mouse all'interno dello slider c'hai qualche domanda Giuseppe perché in linea di massima sono queste le modifiche poi sicuramente man mano man mano che chi ci sta guardando inizierà ad utilizzare la nuova versione si divertirà anche un pochino a scontire la chicca credo che qualcuno ancora per paura non si sia avvicinato non si sia avvicinato all'una versione io guarda Giuseppe scusa che ti interrompo questo è uno dei problemi questo è uno dei problemi su cui sicuramente ci scontreremo perché il semplice motivo è che come si vede rispetto a quella che era non l'operatività rispetto a quello che l'operatore media composer vedeva negli ultimi vent'anni si presenta un'interfaccia completamente nuova dice aspetta un attimo dov'è avid dov'è media composer si che rompe rompe proprio alcuni paradigmi proprio alcune cose ovviamente sono state sono state modificate poco anche per rimanere per rimanere in linea con no con guarda se fai vedere media composer se fai vedere media composer è ritornato l'omino con i pesi e la forbice quindi si si migliora però mantiene sempre quella chicca quel look avid che non guasta mai non è chiaro è chiaro no poi ovviamente bisogna purtroppo bisogna un po' contentare tutti ce l'avevamo detto durante qualche digitalk se non sbaglio con Giovanni che comunque bisogna un po' strizzare l'occhio ovviamente ai nuovi editor comunque le nuove figure le nuove persone che si approcciano al nostro mondo senza però stravolgere ovviamente quello che il software faceva prima quindi no l'operatività tendenzialmente è uguale Giuseppe esatto tranquillizziamo tranquillizziamo gli utenti su questo c'è l'interfaccia che spaventa però tutto ciò che era lavorazioni shortcut comandi veloci per l'appunto operatività e quant'altro è rimasta uguale certo non è cambiata guarda io ti dirò personalmente ho provato la 2019 la 2019 era ancora magari era un po' immatura c'era stato questo grande stravolgimento dell'interfaccia però alla fine la stabilità magari era un po' minata da tutto questo stravolgimento che non solo dell'interfaccia ma anche delle funzionalità aveva subito invece la 2020 bene o male adesso aggiungendo anche delle funzionalità molto interessanti per esempio il bulk edit a livello proprio operativo è una manna dal cielo è una svolta anche lo strip silence è una svolta questo l'ultimo strip silence è interessante per esempio ci sono ci sono tante tante migliorie anche dal punto di vista pure grafico che magari dici vabbè la grafica non me ne frega niente però ti può aiutare quando stai davanti a un software per otto ore e risparmiare quei dieci secondi ogni volta che fai un clic guarda io hai fatto lo stesso che puoi fare l'interfaccia nera per quanto mi riguarda dato che porto anche gli occhiali ti assicuro che va bene quindi per questa non so se c'è qualche domanda da parte di qualcuno però no sicuramente dimmi sicuramente sicuramente le faranno in questo momento sulla chat live non c'è non ci sono domande però mi aspetto mi aspetto che poi pian piano pian piano arriveranno ovviamente insomma potete scrivere nei commenti nei commenti sotto del video il video rimane su youtube cercheremo di rispondervi nel più breve tempo possibile che dire la prossima al prossimo al prossimo webinar al prossimo appuntamento con con la vita italia che sicuramente insomma ci saranno importanti novità dai lasciamo così grazie Valerio grazie a te Giuseppe e grazie a tutti grazie ci vediamo presto ciao alla prossima ciao